Dopo le luci che si sono riaccese in concomitanza con le festività natalizie, una volta liberato da ponteggi e impalcature, Palazzo de Peruta si prepara a tornare alla sua funzione originaria. E stamane il sindaco Gianluca Festa, in un video postato sulla sua pagina Facebook, ha presentato l'aula che ospiterà i consigli comunali durante un sopralluogo allo storico edificio di Via Mancini. Per più di cento anni Palazzo de Peruta ha rappresentato la casa del nostro municipio. Poi, dopo il terremoto, per più di 40 anni siamo stati costretti a trasferirci a Piazza del Popolo. Ultimati i lavori, dunque, del prestigioso palazzo, edificato agli inizi del XIX secolo dalla famiglia de Peruta, considerato il municipio storico di Avellino, si prepara a tornare alla sua funzione originaria. Finalmente torneremo a casa nostra e questa sarà l'aula che ospiterà i nostri consigli comunali, giunta maggioranza opposizione, finalmente torneranno a casa loro e chiuderemo col passato, chiuderemo col poste remoto.